È appena finito l'incontro bilaterale tra il ministro al PNRR e al sud della coesione Raffaele Fitto e la regione Abruzzo. Abbiamo affrontato tutto il complesso mondo dei fondi e dei finanziamenti in essere, fatto una ricognizione su quelli del scorso ciclo di programmazione che finiva nel 2020 e che si sta terminando, sul quale il ministero ha riconosciuto i passi in avanti e l'ottima prestazione della spesa della regione Abruzzo. Ha annunciato che con poche occasioni di incontro, un tavolo tecnico che metterà a posto alcuni dettagli, nelle prossime settimane, non più tardi di un mese, andremo alla ripartizione della nuova programmazione 21-27, importanti investimenti per la regione Abruzzo e quindi noi da questo punto di vista siamo soddisfatti per il percorso intrapreso e anche per il riconoscimento del buon lavoro che la nostra regione sta facendo da parte del Ministero e del Governo nazionale.